Sapete cosa? Far Cry 4 mi piace davvero tanto, è davvero un gioco che mi piace da morire e questo gameplay è venuto particolarmente bene, ho conquistato un avamposto in modo perfetto, ma ovviamente quando succede una cosa del genere, cioè quando un gameplay viene bene, Shadowplay decide di sminchiarmi l'audio del gioco. Ci ho messo una pezza con un audio di ambiente così generico e della musica, però che cazzo. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2, siamo su Far Cry 4 e adesso andiamo in giro a cercare qualche missione di caccia, vediamo un po'. Devo dire che in questo Far Cry 4 l'acqua mi convince molto meno che nel 3, non so perché tutto il resto è molto più figo, compresa l'erba che è veramente uno spettacolo, ma l'acqua era molto più figa nel 3, non so perché. Ok, hanno ottimizzato ancora e io non lo sapevo, può darsi, mi va bene, mi va come Far Cry 3. La nooo, sono cacato addosso, esplosioni random in giro. Sì, dobbiamo prendere quest'arma e queste frecce. Ok, sembra che io debba prendere questa barca per arrivare sull'area di missione che è lì davanti a me. Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo qua davanti? Cos'è questa cosa brutta? Molto brutta? Mannaggia la miseria, Ubisoft, che cazzo combini? Perché in Far Cry 3 andava tutto bene e qui hanno dovuto scappellare tutto? Tutto. Certe cose, certe cose che potevano semplicemente essere identiche a prima. Ok, ecco il primo cinghialotto. Sento rumore intorno a me. E infatti porco demonio. Porco demonio! Via! Tu non ci vieni in acqua, vero? Che c'è? Si è arrabbiato? Altro cinghiale, mi serve un altro cinghiale. Eccolo lì, bello grassoccio. Che cazzo! Merda. E guarda se muore! Oh, che cazzo! Mi so cagato addos... Via, via! Devo seguire lui, devo seguire lui perché... Sì! Merda, 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 merda! Le spalle mi attacca... No! Non perdere tempo, agiai di merda! Oh, 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 via, 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 via da qua! Via, via, via! Via, vattene, cazzo! Addio, è un disastro, è un disastro questi cinghiali, sono aggressivi! Dai, già, esci dall'acqua, forza! Guarda! Cosa? Oh! E guarda che culo che ha! Maledetto! Porca troia, quanto sottosti! E guarda, però, donna! Ci hanno un culo, sti cinghiali che... Oh! Fuck! Allora, andiamo che dobbiamo consegnare la carne. Esploriamo anche il fondale, va! Oh, che... Madonna, mi sono cagato addosso! E lo sapevo che usciva qualcosa! Vabbè, mi piacerebbe ammazzarlo, eh, ma dall'acqua non sono assolutamente capace di farlo. Dove sei? Ok, dobbiamo mettere la carne nel congelatore. Ah, finita la missione, ragazzi. Ah, facciamo una cosa. Non voglio far durare il gameplay troppo poco, voglio offrirvi ancora un po' di azione. E dai, dai, sali, sali, è Gai-Gall, sei una femminuccia! Vai, forza! Fumo nero di un avamposto. Direi che potremmo provare a conquistarlo. Allora, c'è sulla mappa una missione di Yogi. E' una missione contrassegnata dalla lettera L. Siamo qui e l'avamposto che vogliamo raggiungere è qui. Non male. Sono circa 400 metri, che a piedi non dovrebbero essere troppi. Madonna, però non abbiamo niente. Non abbiamo un Kaiser. Quante frecce abbiamo? Non è dato sapere. Proviamo a conquistarci l'avamposto stealth, va! Io comunque sull'arco voglio metterci assolutamente un red dot, perché altrimenti non riesco a capire se sto mirando bene o no. Tutte le mie armi vanno reddottate. Quelle che si possono reddottare... Sembra che l'avamposto sia messo in una posizione particolarmente favorevole per un attacco bastardo. Sì, esatto. No, no, no. Purtroppo, se è al livello del suolo, sono fottuto. E' difficile approcciarsi agli avamposti quando sono al livello del suolo. Ja. Vedo un allarme. Vedo un allarme. E' una casa a due piani, con tetto sfondato. Fortunatamente ho con me l'arco. L'arco dovrebbe darmi... Due persone là dentro. Sono un hater, non un lover. Fanno discorsi profondi sti tizi. Per essere soldati del... del buon pagamino sono fin troppo poetici. Ho 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 ho. Allora, quello secondo me... Oh, cazzo. Oh, deve morire. Prima questo. Non cadere, stronzo, se no. Poi muore questo. Poi, perché no, questo qui. Cazzo, ma c'hanno gli animali. Se questi si mettono a urlare... E' la fine. Ok, sono arrivati dei cani nel l'avamposto. Il che mi darà la possibilità di fare cose belle. Ottimo. Oh! L'ho mancato clamorosamente, cazzo. Dove ti nascondi, coniglio. Lo dice a tua sorella, coniglio. Ok, siamo tornati al punto iniziale. Da qui dovrei avere anche visibilità sul... Sull'allarme, cazzo. Sì! Sì, tu hai sentito qualcosa, ma non sai cosa hai sentito. Hai sentito... Bella. Sì, hai ragione. È un massacro. Là! Signori, avamposto preso completamente stealth. Il mio primo avamposto completamente stealth su Far Cry 4. Prego, signori, un bel linchino per questo faggiano. Ok. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Sì.